Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo nell'incontro del 6 giugno con i rappresentati del sindacato intercategoriale Cobas ha assicurato massima attenzione da parte di tutta l'Assemblea per i gravissimi problemi di lavoro che attanagliano tanti piemontesi. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, discuteremo delle vostre richieste in commissione e ci attiveremo con la Giunta regionale per tornare sulla questione.